Questo libro nasce da tanti pensieri, intanto nasce da un'età che ha il protagonista e più o meno è la mia. Lui dice sono a tre quarti della vita, mi resta un quartino. Ora, in questa fase dove posso dire forse inizia la vecchiaia, uno comincia a chiedersi cosa ho fatto prima e quanto è stato utile? Domanda da non farsi mai perché nulla è utile di quello che facciamo, nel senso che tutto passa, viene travolto e non sarà più nulla di noi. Per noi stessi però magari è stato utile, no? No, certo, è la nostra vita, però la domanda esiste e soprattutto siamo costantemente a confronto con le persone che sono oggettivamente utili nella vita. Ad esempio, come dice Raimond, i medici. Raimond però è niente meno che questo ciucchello qua, questo asino. Perché con la mascherina? Beh, perché quello si svela nel finale, ci piaceva l'immagine di Zorro, è un vendicatore. Non possiamo dirlo, però ho visto che l'uso dell'asinello è per un fatto anche personale, ce lo vuole raccontare? Sì, dunque intanto ci metto 40 e più pagine a dire che è un asino, perché in realtà potrebbe anche non esserlo. E' una persona in fine carriera, vecchiotto, che si comincia a sentire inutile e l'idea mi è venuta, sì, da una cosa reale. Un mio grande amico due anni fa, per Natale, mi fece uno strano regalo, mi fece arrivare via mail il certificato di adozione di un asino, anzi di un'asina che si chiamava Clementina. E io ho appresi in quell'occasione che si possono adottare asini, sia veramente... Ma a distanza o a vicinanza? No, anche a vicinanza. Eh, se le parla da casa? Te li danno. Ti sa di colpi come racconti. Ma io lo prenderei subito un asino.